Salve a tutti, in questo video vorrei parlare delle dichiarazioni disperate, degli appelli disperati lanciati da Zelensky e da Kuleba, il ministro degli esteri ucraino, nelle ultime ore. Zelensky ha detto che l'Ucraina sta terminando i proiettili per la difesa antiaerea e che una volta terminati questi proiettili l'Ucraina non avrà scampo, non potrà più difendersi in alcun modo dai massicci bombardamenti che la Russia conduce contro il suo territorio. L'altro appello è stato lanciato da Kuleba in una intervista al Financial Times in cui Kuleba ha detto che, così testualmente, le bombe guidate della Russia stanno spazzando via le nostre difese. Le bombe guidate della Russia stanno spazzando via, si è espresso così testualmente, ha detto spazzare via le bombe guidate della Russia, stanno spazzando via le difese ucraine. Lo scenario che abbiamo davanti a noi è molto tragico, l'Ucraina versa in una condizione molto tragica, come sappiamo l'Ucraina ha ormai perso la guerra e il problema è soltanto capire quali nuovi territori russi andranno a conquistare. Mentre parlo i russi continuano ad avanzare, gli ucraini non fanno altro che difendersi e arretrare e l'Occidente non è in grado di rifornire l'Ucraina delle armi necessarie per potersi difendere. La promessa inizialmente era che l'Occidente avrebbe consentito all'Ucraina di sconfiggere la Russia, ma adesso gli appelli di Zelensky e di Kuleba, questi appelli delle ultime ore, ci dicono che la strategia dell'Occidente in Ucraina è stata un fallimento colossale, che ha causato la distruzione dell'Ucraina, perché l'Occidente ha abbracciato una strategia che poggia su due pilastri, vale a dire l'esecrazione della diplomazia, chiunque proponga la diplomazia con Putin per arrestare il conflitto, per dirimere questa controversia internazionale, è un criminale, è una persona che deve essere diffamata, calunniata, insultata e l'altro pilastro di questa strategia iperfallimentare è stato l'invio delle armi per sconfiggere l'esercito russo sul campo. Quindi esecrazione della diplomazia, invio di armi per sconfiggere l'esercito più forte del mondo usando l'esercito più debole dell'universo. Questa è stata la strategia della Casa Bianca, questa è stata la strategia della Nato, questa è stata la strategia dell'Unione Europea, questa è stata la strategia del governo Draghi, ed è anche la strategia del governo Meloni. Siccome è ormai evidente a tutti che si è verificato per filo e per segno quello che avevo previsto, cioè che la controoffensiva ucraina sarebbe stato un fallimento colossale, che avrebbe decimato l'esercito ucraino, dissanguato l'Ucraina, esponendo il suo collo ai denti di Putin, cioè alla contro-controoffensiva russa, siccome tutto sta andando per filo e per segno come avevo previsto, in queste settimane c'è una gara a fare finta di niente. Quindi come noi sappiamo la funzione del Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libero, il Giornale, il Foglio, Zapping, Radio Rai, qual è? Quella di creare consenso intorno alle politiche di guerra della Casa Bianca in Ucraina, ma è anche la funzione di coprire le responsabilità di coloro che guidano il blocco occidentale in questa fase storica. Quindi in Corriere della Sera la Stampa, la Repubblica, il Foglio, il Giornale, Libero, Zapping, Radio Rai, rifiutano di fare il proprio dovere, cioè svolgere una funzione di controllo nei confronti del potere pubblico, perché questa è la funzione cui sono preposti i media nelle società libere. Quindi il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libero, il Giornale, il Foglio, Zapping, Radio Rai e chi più ne ha più ne metta dovrebbero incalzare il Ministro Crosetto, dovrebbero incalzare Giorgia Meloni, dovrebbero incalzare tutti coloro che hanno proposto questa strategia fallimentare. Ma non lo fanno. Non lo fanno. Ora, per poter capire di chi sia la responsabilità di questa catastrofe bisogna capire chi abbia fatto saltare gli accordi con la Russia all'inizio della guerra, perché nel marzo del 2022 Erdogan aveva mediato degli accordi tra Zelensky e Putin, questi accordi erano fondamentalmente chiusi. Io invocavo questi accordi, perché sin dal primo giorno di guerra avevo detto per ogni proiettile della Nato che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina. Era esattamente quello che si è verificato. Dicevo, fermiamo subito la guerra, salveremo la vita di tanti bambini, ucraini, soprattutto ucraini ovviamente, ma anche bambini russi, perché ricordiamo che Zelensky ha ucciso, o meglio il governo di Kiev ha ucciso tanti bambini russi. Io dicevo, fermiamo subito la guerra, questo è nell'interesse dell'Ucraina, questo è nell'interesse dell'Italia, questo è nell'interesse dell'Unione Europea, perché la Russia è sovrastante rispetto all'Ucraina. La risposta, Corriere della Sera, la Repubblica, la stampa, Libero, il foglio, il giornale, Zapping Radio Rai, cioè la propaganda della Casa Bianca in Italia, è stata no, Orsini è un criminale, Orsini è cattivo. Orsini fa questa proposta perché, essendo un esperto di sicurezza internazionale, Orsini sa bene che la Russia è debolissima, quindi Orsini propone una mediazione, propone di fermare subito la guerra perché vuole favorire la Russia, che sa che è debolissima e che gli ucraini sconfiggeranno la Russia, quindi Orsini cerca di fermare la guerra sin dal primo giorno, perché sa che la Russia poi sarà sconfitta dall'Ucraina. Follia allo Stato puro. Ora però, dal punto di vista storico, ciò che è fondamentale capire è di chi sia la responsabilità degli accordi falliti nel marzo del 2022. E a riguardo ho scritto un articolo che mi accingo a leggere. Prima di leggere l'articolo che ho dedicato a questo argomento, devo fare una breve premessa di servizio, la prossima diretta con gli abbonati di sicurezzainternazionale.com, si terrà il 30 aprile dalle 19 alle 20. Sicurezzainternazionale.com è il sito di cui sono direttore e anche il primo sito in Italia per numero di articoli pubblicati sulla politica internazionale, ne pubblichiamo oltre 400 al mese. Ed io ringrazio come sempre con tutto il cuore gli abbonati di sicurezzainternazionale.com perché per una nostra scelta noi non vogliamo né pubblicità né finanziamenti esterni per essere completamente liberi e indipendenti, quindi ci basiamo completamente, ci basiamo esclusivamente sugli abbonamenti per cui i nostri abbonati per noi sono tutto. Tra l'altra cosa, come ho detto in altre circostanze, gli abbonati di sicurezzainternazionale.com finiscono per sostenere anche questo canale YouTube e perché sempre di più i miei video su questo canale si risolvono nella lettura di un articolo che ho pubblicato per sicurezzainternazionale.com, ma oggi farò eccezione perché l'articolo di cui sto per parlare, l'articolo che sto per leggere, l'ho invece pubblicato sul Fatto quotidiano si intitola Ucraina condannati da chi sabotò l'intesa con Putin. Voglio parlare della vera storia degli accordi falliti tra Russia e Ucraina, quella vera, quella vera ricostruita sulla base della documentazione disponibile. Voglio parlare della vera storia degli accordi falliti tra Russia e Ucraina, di cui i media dominanti parlano tutti i giorni falsificando i fatti. Procederò con ordine, giacché la strategia incrementale con cui Putin sta distruggendo l'Ucraina, è una conseguenza del fallimento degli accordi del marzo 2022. Secondo Zelensky, Putin sta ammassando circa 150.000 nuovi soldati. È la strategia incrementale. In che cosa consiste e quali sono le sue finalità? La strategia incrementale consiste nell'aggiungere armi e soldati un po' alla volta. Putin ha sfondato il fronte con 180.000 soldati, sperando che fossero sufficienti a ottenere una trattativa immediata per evitare di spendere miliardi nella guerra. Putin non avrebbe invaso l'Ucraina con 180.000 soldati se le sue intenzioni fossero state quelle che il Corriere della Sera, Repubblica, la Stampa, il Giornale Libero e il Foglio, cioè la propaganda della Nato in Italia, gli attribuiscono, ovvero la conquista dell'Europa. Quando a marzo 2022 Putin e Zelensky si accordarono per porre fine alla guerra, Biden e Johnson, l'allora premier inglese, fecero saltare gli accordi convinti che la Russia fosse debolissima. Abbracciarono in altre parole la strategia della Nato. Che formulo come segue? Esecrazione della diplomazia, guerra a oltranza per la sconfitta della Russia sul campo per mano degli ucraini. Falliti gli accordi Putin ha fatto un investimento enorme nella guerra, abbracciando la strategia incrementale che ha svolto una funzione interna e una funzione internazionale. Sul piano interno la strategia incrementale è servita a non turbare la società civile russa in vista delle elezioni. Come un ragno nella tela, Putin ha evitato di mobilitare un milione di soldati tutti insieme, aspettando che il nazionalismo, esasperato dalle minacce della Nato, spingesse i russi all'arruolamento volontario. Sul piano internazionale la strategia incrementale è servita a impedire che l'Occidente cadesse nel panico, favorendo i falchi come Mario Draghi. I soldati russi sono passati dai 180.000 iniziali ai 617.000 dichiarati da Putin in una conferenza del 14 dicembre 2023. Putin ha aggiunto 470.000 soldati in un anno e mezzo circa. Questi 617.000 soldati saranno presto affiancati da altri 150.000, da altri 150.000 commilitoni. Ci avviciniamo al milione di soldati russi. Putin ha iniziato a fare grandi investimenti in Ucraina dopo, dopo il fallimento degli accordi di marzo-aprile 2022. E non prima! Dopo! Non prima! Il Corriere della Sera e i suoi figli minori, per coprire gli errori della Nato pagati dagli ucraini con la vita, continuano a ripetere che Putin è sempre stato contrario al cessato il fuoco. Ma i documenti storici dicono il contrario. Quando la battaglia di Bakhmut infuriava nel marzo 2023, Biden rifiutò, per bocca di John Kirby, il cessato il fuoco che Xi Jinping, presidente della Cina, stava mediando con Putin a Mosca. Che avrebbe mediato, che stava mediando con Putin, poi pochi giorni dopo Xi Jinping si sarebbe recato al Cremlino, sempre per discutere la possibilità di un cessato il fuoco. Secondo Biden, il cessato il fuoco avrebbe favorito il debolissimo esercito russo. Il 16 marzo 2023 Kirby pronunciava queste parole a nome della Casa Bianca contro la mediazione della Cina per un cessato il fuoco. Questo è John Kirby che parla a nome della Nato, a nome della Casa Bianca. La Russia, dice Kirby, sarebbe sostanzialmente libera di utilizzare il cessato il fuoco per rafforzare ulteriormente le proprie posizioni in Ucraina, per ricostruire le proprie forze, riorganizzarle, mantenerle, trattenerle in modo che possano poi riprendere gli attacchi nel momento che preferiscono. E francamente, dice Kirby, non è proprio un passo che noi reputiamo in direzione di una pace giusta e duratura, quindi no al cessato il fuoco. Kirby, questo è soltanto un caso. In molti altri casi, ufficialmente la Casa Bianca ha rifiutato le proposte di cessato il fuoco mediate da Erdogan, dalla Cina e anche avanzate dallo stesso Putin, da Lavrov. Torniamo al marzo 2022, quando Biden e Johnson fecero saltare gli accordi, dissi che l'esecreazione della diplomazia e l'investimento totale nella guerra avrebbero innalzato gli obiettivi territoriali di Putin, causando la distruzione dell'Ucraina. È accaduto! All'inizio del conflitto, l'Ucraina non bombardava il territorio russo da Kharkiv. Dopo aver iniziato a cannoneggiare Belgorod, Putin ha deciso di conquistare anche Kharkiv, o una sua parte, per allontanare le armi ucraine dai civili russi. Mentre scrivo, la Russia sta devastando quell'oblast, probabilmente perché intende indebolirlo prima di assaltarlo. Putin ha quasi interamente distrutto l'infrastruttura energetica di Kharkiv, secondo le dichiarazioni del suo sindaco, come dimostra anche l'esodo di massa che ha colpito la città. Riassumo in tre punti la vera storia degli accordi mancati tra Russia e Ucraina. Uno, nel marzo 2022 Putin agognava un accordo per evitare di investire miliardi di dollari nella guerra. Due, l'Occidente si è opposto agli accordi perché pensava che l'Ucraina avrebbe distrutto la Russia. Tre, Putin ha reagito investendo nella guerra e adesso l'Ucraina è spacciata. Mario Draghi ha messo l'Italia sulla strada della guerra in Ucraina. Draghi tra coloro che hanno proposto di sconfiggere l'esercito più forte del mondo usando il più debole dell'universo. In una società con un'informazione libera, Draghi verrebbe criticato per il suo errore disastroso e non proposto per nuovi e più alti incarichi. In estrema sintesi quello che ho fatto in questo video è spiegare che coloro che hanno fatto saltare gli accordi con Putin nel marzo-aprile 2022 sono stati i veri carnefici dell'Ucraina. Perché adesso l'Ucraina è spacciata, come io avevo previsto. Stoltenberg, il 7 settembre del 2023, in una audizione davanti alla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, ha detto che Putin, prima di invadere l'Ucraina, aveva chiesto alla Nato una mediazione per evitare l'invasione. Stoltenberg, in quella audizione, ha detto orgogliosamente, noi della Nato abbiamo detto di no a Putin, abbiamo detto noi siamo contrari a qualunque tipo di mediazione con la Russia, noi, ha detto Stoltenberg, abbiamo preferito esporre l'Ucraina al pericolo di un'invasione piuttosto che mediare con Putin. Ricordo a tutti che questo canale non ha pubblicità per una mia scelta, mi è stata offerta la possibilità di monetizzare con questi video. Questi video non hanno pubblicità perché sono io a non volere le pubblicità e a rifiutarle. Ed è un canale che ho aperto soltanto, un canale che ho aperto per restituire un po' dell'affetto che ricevo da tante persone che mi iscrivono e che mi vogliono bene. Io sono molto molto grato di questo affetto. Vi ringrazio di avermi seguito e a presto!